Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. È il 1992, ci troviamo a Wimbledon, nel sud-ovest di Londra. La protagonista del caso di oggi è Rachel Nickel, una ragazza di 23 anni, nata il 23 ottobre 1968. Gli suoi genitori si chiamano Andrew e Monica e suo fratello Mark. Rachel cresce a Grithotham, un villaggio e anche parrocchia civile della contea di Essex. Si dimostra gentile e altruista fin da piccola, da quando esprime il desiderio di aiutare gli anziani e i bambini disabili che vivono nella sua zona. Ama le arti dello spettacolo, ha una grande passione per il canto, la recitazione e la danza classica. Le sue insegnanti sostengono che Rachel abbia un talento naturale, che avrebbe coltivato la sua vena artistica fino a farla diventare un lavoro, ma lei decide di proseguire gli studi universitari per conseguire una laurea in letteratura inglese. Mentre studia, Rachel inizia anche a lavorare come modella, ma non solo. Poco dopo trova un impiego come bagnina in una piscina del quartiere Richmond, a Londra. All'età di 19 anni, proprio mentre lavora in piscina, incontra un giocatore di tennis semiprofessionista di 25 anni di nome Andre. Andre e Rachel cominciano a chiacchierare e, siccome percepiscono una certa complicità, decidono di darsi appuntamento. Dopo questa prima uscita, Rachel è, a dir poco, entusiasta, tanto che chiama sua madre per dirle che ha trovato l'uomo con cui vuole trascorrere il resto della sua vita. I due si frequentano un po', la loro relazione progredisce finché Rachel scopre di essere incinta. Non sono sicure di voler tenere il bambino perché temono di non essere pronti a diventare genitori, ma mentre riflettono su come gestire la gravidanza, decidono di trasferirsi insieme in un appartamento a Balam, nel sud di Londra. Alla fine scelgono di non rinunciare al piccolo, che nasce l'11 agosto del 1989 e che chiamano Alex. I miei genitori sono entrambi follemente innamorati del figlio. Rachel, in particolare, decide di mettere da parte gli studi per concentrare tutte le sue energie nell'accudirlo. Ben presto la coppia adotta anche un cane che chiama Molly. Rachel è felice di come sta evolvendo la sua vita, ora ha una famiglia tutta sua e nutre grandi speranze per il futuro. Ma il 15 luglio del 1992 accade qualcosa che smantella ogni previsione. È un mercoledì e la giornata inizia come tutte le altre. Andre va a lavoro, mentre Rachel e Alex, che tra un paio di mesi compirà tre anni, escono di casa con il cane per una passeggiata nel parco di Wimbledon Commons. Questo spazio verde in realtà è parecchio esteso, copre 1140 acri circa e comprende aree ricreative, boschi, stagni. Nella mattina del 15 luglio 1992 nel parco sono presenti circa 500 persone. Man mano che camminano Molly si allontana e Rachel, il piccolo Alex, finiscono in una radura piuttosto nascosta. Rachel non si sente a suo agio, pensa addirittura di essere seguita e non si sbaglia. Infatti quando si volta scorge un uomo con una borsa nera che si sta avvicinando. L'uomo afferra il bambino e lo getta a terra, poi estrae un coltello e inizia a pugnalare Rachel. Dopo averla colpita ripetute volte, la sale anche intimamente. Questa terribile e veloce aggressione, Alex, che non aveva nemmeno tre anni, la ricorda tutt'oggi. Dopo la spinta è finito con la faccia nel fango. Poi, quando è riuscito a rialzarsi, ha visto sua madre Rachel riversa a terra accanto a lui e ha notato l'aggressore che raggiungeva un ruscello nelle vicinanze per lavarsi il sangue dalle mani. Infine lo sconosciuto si è allontanato tranquillamente. Alex, come ricorda ancora, torna a guardare il viso della sua mamma e vi coglie un'espressione serena, come se dormisse. Dunque inizia a gridare, alzati mamma, alzati per favore. Ma presto, ahimè, si rende conto che non può farlo, perché non è più in vita. Nonostante la sua tenera età, Alex in questo momento si rende conto che sua madre non c'è più. Così il bimbo che fa inizia a correre, tornando indietro lungo il sentiero che aveva attraversato con la sua mamma e il suo cane. Quando esce dalla zona boscosa, delle persone lo notano e gli corrono incontro. Alex è pieno di fango e addosso anche il sangue di sua madre. Vengono subito chiamate la polizia e l'ambulanza. Alex viene sedato e portato al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Anche Molly viene recuperata. Intanto la notizia dell'aggressione si diffonde immediatamente. Il caso viene riportato nei notiziari nazionali, presentato sui giornali. I media ne parlano e la stampa si raduna sia davanti al comune sia fuori dall'ospedale in cui si trova il piccolo Alex. Questo perché nonostante in mattinata ci fossero circa 500 persone nel parco, il bimbo sembra essere l'unico testimone dell'aggressione subita da sua madre. Il compagno di Rachel, Andre, viene contattato dalla polizia mentre è al lavoro e viene messo al corrente di ciò che è accaduto. Sconvolto, Andre lascia velocemente il lavoro per dirigersi all'ospedale e durante il tragitto pensa a un modo per porre fine alla propria vita e pure a quella di suo figlio. Sa che Alex è molto attaccato a sua madre ed è convinto che il bambino non potrà superare questa tragedia. Andre chiaramente fa questi pensieri soltanto perché si sente disorientato e terribilmente affranto dalla perdita della sua compagna e non sa proprio come andare avanti senza di lei, ma non contempla il suicidio e l'uccisione del figlio concretamente. Quando arriva da Alex e prova a spiegargli che la mamma non sarebbe più tornata, suo figlio lo guarda e gli risponde «Lo so papà, l'ho vista». Nel frattempo i detective si riuniscono sulla scena del crimine e intorno a Wimbledon Common. Riescono a rintracciare tutte le 500 persone presenti nel parco quella mattina per poterle interrogare, ma sembra davvero che nessuno abbia visto nulla, nemmeno l'aggressore che si allontanava. Questo per la polizia è sorprendente perché l'assalto è stato improvviso e brutale, quindi probabilmente l'assassino aveva addosso molto sangue della vittima. La zona in cui Rachel è morta viene transennata, vengono scattate diverse foto al suo corpo e alla scena del crimine. Dopodiché il cadavere viene trasferito in un laboratorio per effettuare l'autopsia, la quale conclude che Rachel era stata pugnalata per 49 volte e aveva subito violenza intima. Gli investigatori però si trovano in difficoltà perché non sono riusciti a raccogliere prove di supporto alle indagini. Nessuna impronta digitale, ma soltanto un'impronta di scarpa sulla scena del crimine e delle tracce inspiegabili di vernice rossa sui capelli di Alex. In realtà la squadra forense ha provato a prelevare anche alcuni campioni di DNA dal corpo di Rachel, ma a causa dei limiti della tecnologia forense non sa se l'analisi risulterà efficace. Nonostante la scarsità di prove e le incertezze, i detective sanno che devono individuare il colpevole alla svelta, in quanto sembra ricalcare il profilo di un predatore seriale. Rachel? Probabilmente. Quella mattina si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato ed è stata una vittima casuale. Se non fosse passata di lì, l'assassino avrebbe ucciso un'altra donna. La polizia quindi è sicura che l'omicida avrebbe provato a colpire ancora. Il giorno dopo l'omicidio di Rachel, il suo compagno Andre fa un appello televisivo invitando chiunque abbia qualche sentore sull'identità dell'assassino a farsi avanti. La polizia spera che questo appello genere suggerimenti o indizi e in effetti dopo l'apparizione in TV di Andre arrivano centinaia di telefonate, ma nessuna aiuterà davvero le indagini. Nel frattempo due detective provano a ottenere quante più informazioni possibili sull'aggressione attraverso l'unico testimone, il piccolo Alex. La polizia installa dei dispositivi di registrazione e delle telecamere a casa dei suoi nonni che al momento si stanno prendendo cura del bimbo. In questo modo, se Alex dirà qualcosa sull'attacco subito o sull'assassino, la polizia capterà le sue parole. I due investigatori vanno spesso di persona a trovare Andre e Alex e fanno un ulteriore tentativo nella speranza di scoprire di più. Portano al bambino vari bambolotti, alcuni hanno la pelle bianca, altri la carnagione nera, alcuni hanno i capelli grigi, altri marroni e così via, e indossano pure diversi vestiti. Con pazienza i detective sperano di rinfrescare la memoria ad Alex. Quando gli mostrano i bambolotti, gli chiedono se l'uomo cattivo che ha fatto male alla sua mamma avesse quell'aspetto. Attraverso questa strategia, gli investigatori riescono a ottenere una descrizione approssimativa dell'aggressore. Secondo il bambino, è un uomo bianco, con i capelli corti, indossava una camicia bianca, un paio di pantaloni blu e delle scarpe marroni. Con sé, portava una borsa nera. Alex inizia anche a sostenere degli incontri con una psicologa infantile che lo accoglie a casa sua. Ogni volta che il bambino va da lei è accompagnato dal suo papà e dai due detective. In questo ambiente Alex gioca con dei giocattoli o colora dei disegni e nel frattempo la psicologa con delicatezza prova a far emergere i suoi ricordi dell'aggressione. Alex però inizia a stufarsi, non vuole più parlare di questo traumatico evento, non vuole neanche più pensarci. Già c'è la stampa che è imperterrita perseguita lui e il suo papà, che prova a parlargli e pure a scattargli delle foto da vendere ai media. I giornalisti sono sempre appostati fuori dalla sua casa e hanno cercato di fotografarlo persino al funerale della sua mamma. Suo padre è stato costretto a coprirgli il viso con un grosso cappello. Tutto questo perché considerano una sorta di piccola celebrità il bimbo che ha visto morire sua madre mentre veniva pugnalata. Mi dispiace molto apprendere di questa pressione esercitata su Alex, nonostante sappia bene come si muovono i media e la stampa, che non guardano in faccia nessuno pur di ottenere uno scoop, ma in questo caso stanno importunando un bambino di due anni che ha vissuto un trauma indescrivibile e tra l'altro sta continuando a riviverlo perché viene indotto a parlare dell'aggressione sia dai detective sia dalla psicologa infantile. Mentre capisco il modo di agire della polizia intenzionata a catturare un pericoloso assassino e ad assicurarla alla giustizia il prima possibile non giustificò l'ossessione dei media e dei giornalisti. Piazzarsi davanti a casa nel tentativo ostinato di fotografare un bambino che sta sperimentando un dolore atroce non è affatto delicato né rispettoso. Tornando alle indagini, i detective a questo punto hanno interrogato diverse persone e le hanno eliminate dalla lista dei sospettati. Come già sapete hanno raccolto centinaia di dichiarazioni dalle persone presenti nel parco la mattina in cui Rachel è morta ma non hanno ottenuto né informazioni rilevanti né trovato prove. Nel tentativo di restringere il campo nell'individuazione dell'assassino la polizia sceglie di adottare un nuovo approccio e contatta un profiler criminale di nome Paul Britton affinché possa delineare un profilo psicologico e comportamentale dell'assassino. Sulla base delle indagini Paul conclude che l'assassino potrebbe avere meno di 30 anni e abitare nella zona del parco perché con molta probabilità lo conosce bene. Forse vive ancora con i genitori oppure da solo, non ha una fidanzata e ha la mania di guardare foto piccantine. Potrebbe essere un tipo molto autoritario nei momenti di intimità e avere dei precedenti per reati intimi minori. Tra le segnalazioni irrilevanti o poco credibili ottenute dagli spettatori e dai testimoni un giorno la polizia ne riceve una che invece sembra interessante. Una donna di nome Jane dichiara che la mattina dell'omicidio di Rachel ha visto un uomo nel parco che si comportava in modo sospetto. Sembrava che non sapesse esattamente dove stava andando e che non volesse essere visto in faccia. Infatti ogni volta che Jane provava a guardarlo meglio lui si voltava dall'altra parte. È sparito dalla sua vista ma un paio di minuti dopo è riapparso e a Jane è sembrato che stesse seguendo una donna. L'uomo abbozzato da Jane diventa così il principale sospettato nelle indagini. Gli investigatori incrociano il profilo tracciato da Paul Britton con le descrizioni fornite da Alex e da Jane sull'assassinio in modo da definire un identikit del criminale. Tale identikit viene mostrato al pubblico tramite il programma televisivo Crime Watch. Dopodiché la polizia riceve ulteriori segnalazioni. A quanto pare queste persone conoscono lo stesso uomo che sembra incarnare l'identikit del sospettato. Infatti un nome in particolare emerge nelle telefonate. Quello di Colin Stagg, un giovane di 29 anni che vive con il suo cane in un appartamento a Wimbledon a meno di un miglio dal parco. Colin è single, è un uomo un po' solitario e attualmente disoccupato. Anche lui si trovava a Wimbledon Common la mattina in cui Rachel e Alex sono stati aggrediti. Dunque ben presto Colin diventa il principale sospettato per l'omicidio di Rachel. Ricapitolando, nel settembre del 1992, a circa due mesi dal delitto di Rachel, viene mostrato in televisione l'identikit dell'assassino e molte persone sono convinte che corrisponda a Colin Stagg. Anche il profilo psicologico tracciato dal profiler risulta compatibile con questo giovane solitario che abita proprio nei dintorni del parco. La polizia quindi, il giorno dopo la messa in onda del programma, raggiunge l'appartamento di Colin e gli comunica che sta indagando su di lui per l'omicidio di Rachel. Semplicemente dando un'occhiata dentro casa sua, gli agenti notano un paio di cose che considerano preoccupanti. Alcune pareti sono occupate da grosse lavagne sulle quali sono raffigurati dei disegni presumibilmente legati al satanismo. Colin in realtà prova a spiegare alla polizia che questi disegni sono opera di suo fratello che ha vissuto nell'appartamento prima di lui e amava particolarmente la musica metal. Sì, gli piaceva riprodurre quei simboli, ma non era satanista. Colin, che si era trasferito lì dopo che suo fratello era andato via, non si era preoccupato di cancellare quei disegni, considerandoli innocui. In ogni caso, le sue spiegazioni non allontanano i detective dalla loro convinzione. Colin è l'assassino. Il profilo psicologico combacia, è single, vive da sole con il cane, ha tra i 20 e i 30 anni. Poi, oltre ai disegni che risaltano sulle pareti, la polizia trova dei libri sull'occulto, dei guanti e un coltello riposto in un fodero. Questo coltello non combacia con l'arma del delitto usata contro Rachel, ma la polizia immagina che Colin abbia un particolare interesse per i coltelli. Quindi lo arresta e lo porta nella prigione della stazione di polizia per interrogarlo. Colin è sotto shock per le accuse. Sa di non aver ucciso nessuno. La polizia lo interroga per ben tre giorni e gli chiede più volte cosa stava facendo il giorno dell'omicidio di Rachel. Dunque, qual è la sua risposta? Colin è onesto, trasparente con la polizia. Conferma che la mattina del 15 luglio 1992 era al parco di Wimbledon Common con il suo cane. Tuttavia, colto da un brutto mal di testa, ha interrotto la passeggiata per tornare a casa. Ha preso degli antidolorifici e si è messo a riposare. Dopo qualche ora si è sentito decisamente meglio, così ha deciso di cambiarsi e di riportare il cane a passeggio nello stesso parco. Quando è arrivato all'ingresso ha visto diversi agenti di polizia a guardia del parco ed è stato fermato da uno di loro. L'agente gli ha spiegato che il corpo di una giovane donna era stato trovato senza vita e lui ha reagito con sorpresa. Ha detto all'ufficiale che era già stato nel parco proprio quella mattina presto, ma non aveva visto nulla di strano. L'ufficiale di rimando gli ha chiesto nome e indirizzo che Colin ha fornito senza indugi. Così Colin ha rinunciato di nuovo alla passeggiata ed è tornato nel suo appartamento. Colin ripete fino allo sfilimento che non è implicato nell'omicidio di Rachel. Lui non c'entra nulla e non aveva idea che si fosse consumato un delitto nel parco. Due giorni dopo l'arresto di Colin viene chiamata Jane, la testimonia che aveva visto un uomo sospetto a girarsi nel parco per fare il riconoscimento. Le mostrano Colin e lei conferma che assomiglia proprio all'uomo che aveva notato. Sapete sono confusa a riguardo perché Jane aveva affermato che l'uomo sospetto si era sempre girato dall'altra parte per impedire che lei gli vedesse il volto. Dunque come fa a cogliere tutta questa somiglianza con Colin? Mentre Colin viene nuovamente interrogato altri detective esaminano gli episodi rilevanti avvenuti nel parco prima dell'omicidio di Rachel per verificare se possano essere collegati a lui e lo sono. Nello specifico all'inizio dell'estate prima della morte di Rachel una donna aveva riferito alla polizia che nel parco c'era un uomo nudo e visibilmente emozionato nel basso ventre. Ci siamo capiti. La descrizione dell'esibizionista con bacio anch'essa con Colin dunque la polizia gli chiede spiegazione e lui conferma ancora una volta è vero. Stava prendendo il sole nudo in un'area utilizzata anche da altri nudisti come fa ogni singola estate. I detective allora lo accusarono di atti oscene in luogo pubblico e l'avvocato di Colin gli consiglia di dichiararsi colpevole. Quindi ora la polizia, i media e il pubblico considerano Colin un massatore intimo, un pervenuto che va abitualmente in giro per Wimbledon, Common, con le sue grazie esposte proprio nel parco dove Rachel era stata aggredita intimamente. Colin riceve una multa pari a 200 sterline e poi viene rilasciato. I detective non possono trattenerlo perché non hanno prove tangibili per accusarlo ma continuano a essere convinti che sia lui l'assassino di Rachel. L'opinione pubblica ovviamente è indignata per il rilascio di quello che ormai considera un assassino e la stampa segue Colin ovunque, lo filma e gli scatta delle foto da vendere ai media. I giornali stampano articoli accompagnati da titoloni che additano Colin come un pervenuto e un assassino e anche la polizia non lo molla, determinata a trovare una prova che consenta di accusarlo dell'omicidio di Rachel. Tutti gli sforzi degli investigatori si concentrano su Colin nell'obiettivo di dimostrare che è lui l'assassino. Questo vuol dire che hanno abbandonato ogni altra pista che non stanno più indagando su altri sospettati. Un'altra donna di nome Julie dopo aver visto il viso di Colin in televisione sui giornali contatta la polizia per riferire di un altro episodio che lo coinvolge. Circa due anni prima dell'omicidio di Rachel, Julie aveva pubblicato un annuncio su una rubrica di un giornale dedicata ai cuori solitari. Colin si era imbattuto nell'annuncio di Julie e aveva deciso di risponderle dato che anche lui era single. Colin e Julie si erano scambiati delle lettere per un po' di tempo, avevano parlato al telefono un paio di volte e lui era convinto che tra loro potesse nascere qualcosa di più di una buona amicizia. Così un giorno aveva deciso di inviare a Julie una lettera dal contenuto un po' piccante descrivendole una sua fantasia, quella di avere un rapporto intimo all'aria aperta. Ma Julie questa lettera non era piaciuta, quindi aveva deciso di non contattare più Colin, tuttavia conservava ancora lo scritto in questione e lo consegna alla polizia. Quando i detective leggono la lettera si convincono ancora di più di essere sulla strada giusta, d'altronde Rachel è stata uccisa all'aria aperta e ha subito violenza intima. Vi faccio una domanda, concordate con me che questa lettera non può collegare Colin al crimine in alcun modo? Attenzione, non sto escludendo che sia il colpevole e posso capire che la sua rivelazione venga considerata come poco educata o poco galante, ma si tratta di una mera fantasia intima. Colin l'ha espressa in una lettera indirizzata alla donna con cui stava intrattenendo una corrispondenza dalle venature sentimentali, un fatto avvenuto due anni prima e fine a se stesso. Insomma, ognuno ha le proprie fantasie e lui non le aveva mica imposte a Julie. Quindi no, non è questa una prova tangibile che può collegarla al diritto di Rachel, secondo la mia opinione. Obiettivamente le uniche prove che i detective hanno contro Colin sono circostanziali, se così si possono definire, eppure loro percepiscono che lui è il colpevole. E nel tentativo di trovare una prova solida per accusarlo, i detective escogitano un piano che mi ha lasciato perplessa. Andiamo con ordine. I detective decidono di impiegare una polizzotta sotto copertura, una donna bionda e attraente col nome fittizio di Lizzie James, la quale ha il compito di avvicinarsi a Colin per sedurlo e provare a farlo confessare. Questo piano per catturare Colin viene denominato Operazione Esdel. Un gruppo di detective e il profiler Paul Britton lavorano con l'ufficiale sotto copertura per architettare una strategia. Lizzie James tenta l'approccio scrivendo una prima lettera a Colin, in cui si presenta come un'amica di Julie, la donna conosciuta due anni prima attraverso la rubrica dei coli solitari. Lizzie dice a Colin di aver letto la sua lettera a sfondo intimo e di averla trovata interessante. Gli rivela che lei ha una mentalità molto più aperta della sua amica Julie, dunque le sarebbe piaciuto conoscerlo meglio. Colin risponde a Lizzie scrivendole che è ansioso di sapere di più su di lei ed è davvero lusingato ed eccitato dal suo tentativo di approccio. Una cosa del genere non gli era mai capitata prima, per di più considerando che lei è una donna davvero attraente come mostrano le foto. I due cominciano a scambiarsi un sacco di lettere, all'inizio Colin si mostra piuttosto romantico, dice a Lizzie che gli piacerebbe portarla fuori a fare una passeggiata, poi andare in un locale a bere, un bicchiere di vino e alla fine della giornata salutarla con un bacio. Mentre Colin è dolce, Lizzie è provocante, nelle sue lettere parla solo di rapporti intime, ripete che non vede l'ora che lui le mostri cos'è un vero uomo, gli confida anche che ha una fantasia intima oscura, vuole trovare un uomo che la faccia sentire indifesa e umiliata. Quando Lizzie diventa davvero esplicita, Colin inizia a imitarla. Lizzie gli piace davvero tanto e vorrebbe andare a letto con lei, tuttavia ricorda di come era andata a finire con Julie. Dopo la sua lettera spinta, Julie non gli aveva scritto mai più, quindi Colin se con Lizzie utilizza parole troppo accese e poi si scusa scrivendole che gli dispiace di aver oltrepassato il limite. Ma Lizzie insiste e gli dice che le piace essere stuzzicata così, quindi incoraggia Colin a diventare ancora più esplicito. Lizzie non vuole che lui si trattenga, anzi spera che lui si mostri sempre più dominante e Colin la seconda. I due si scambiano più di 40 lettere, tuttavia la polizia non ha ancora in mano prove sufficienti per accusare Colin. Decide quindi di intensificare l'operazione dicendo a Lizzie di passare al livello successivo, telefonando al sospettato. Cioè nonostante, dalle conversazioni registrate non emerge di nuovo alcuna prova incriminante. Quindi viene pianificato un nuovo passo, far incontrare la gente sotto copertura e Colin. La polizia pensa che chiacchierando con Lizzie faccia a faccia lui si sarebbe lasciato scappare qualcosa di eclatante. L'incontro avviene in un luogo pubblico, cioè a Light Park di Londra. Lizzie ovviamente indossa un registratore in modo che i detective possano ascoltare le loro conversazioni. Inoltre altre agenti di copertura si posizionano nei dintorni. Colin e Lizzie si incontreranno più volte nei mesi successivi, quasi sempre nei parchi, dove spesso fanno un picnic insieme, oppure nei bar. Arriva un giorno in cui Lizzie racconta a Colin una storia raccapricciante. Gli dice che il suo ex fidanzato è appassionato di magia nera e che in un'occasione anche lei ha preso parte al sacrificio umano di una donna in stato interessante. Quando ascolta questo fatto cruento Colin pensa che Lizzie sia completamente folle ma prova a fare finta di niente perché vuole andare a letto con lei, ok? Colin vuole solo pucciare il biscotto, davvero. La polizia però trova sospetto che lui, ascoltando una storia del genere, non sia rimasto scioccato, che non abbia contattato le autorità o manifestato una qualsiasi reazione di contrarietà. Mentre gli incontri continuano Lizzie inizia a parlare dell'omicidio di Rachel. Ma Colin le dice immediatamente che lui non c'entra nulla quindi lei non deve mica preoccuparsi. I detective però esortano la gente sotto copertura a insistere quindi Lizzie dice a Colin che quel livello di violenza in realtà la eccita. Lei desidera che Colin sia il colpevole e un giorno gli dice, attenzione, se confessi di aver ucciso Rachel io verrò a letto con te. Ora, questo tentativo così sfacciato evidenzia la disperazione dei detective perché sono davvero disperati, non sanno dove sbattere la testa, non hanno prove, non riescono a raccogliere alcuna prova perché non ce ne sono purtroppo e continuano a marcare questo povero Cristo che pare non abbia fatto nulla. Ma proseguiamo perché Colin ribadisce di essere innocente. Dice a Lizzie che gli dispiace ma non è stato lui a uccidere Rachel. E dopodiché Colin in effetti inizia a perdere interesse per Lizzie. Certo vorrebbe ancora andare a letto con lei, vorrebbe pucciare il biscotto ma ha capito che la ragazza non avrebbe mai accettato perché è ossessionata dall'assassino di Rachel, quindi da qualcun altro. Così smette di contattarla. Dopo sette mesi di incontri, Colin non ha mai neanche solo accennato al fatto di essere coinvolto nell'omicidio di Rachel, anzi ha negato, ma gli investigatori vogliono ancora accusarlo di questo crimine. Non hanno prove sufficienti per farlo, non hanno la sua confessione, ma soltanto delle lettere e delle registrazioni audio in cui Colin descrive le sue fantasie intime e audaci. Decidono così che queste prove dimostrano che lui sarebbe stato capace di commettere l'omicidio. Più di un anno dopo la morte di Rachel il 17 agosto del 1993, il trentenne Colin Stagg viene arrestato di nuovo per l'omicidio della donna. Viene portato alla stazione di polizia per essere interrogato ed è in questo momento che i detective gli rivelano la natura dell'operazione Esdel e fanno entrare nella stanza la poliziotta sotto copertura. Leggono ad alta voce le lettere che Colin aveva scritto a Lizzie e lui scopre di essere stato manipolato, spinto sempre di più a parlare delle proprie fantasie intime e streme. Gli hanno teso una trappola in pratica. Così, mentre gli investigatori continuano a interrogarlo, lui si limita a rispondere no comment a ogni domanda che gli viene posta. Nel frattempo gli agenti perquisiscono la sua casa e prestano particolare attenzione al giardino, dove usano i metal detector ed eseguono degli scavi nel tentativo di ritrovare l'arma del delitto. Vi ricordo che si tratta di un coltello che non è mai stato trovato sulla scena del crimine, ma che non si rinviene nemmeno nel giardino di Colin. Tavia, con zero prove, l'uomo viene accusato di omicidio e continua a dichiararsi innocente, come ha sempre fatto. In attesa di affrontare il processo, Colin finisce in prigione, dove rimane per più di un anno. Nel frattempo la polizia, l'accusa e la difesa continuano a lavorare sul caso. L'accusa si avvale di due prove principali contro Colin. L'adesione al profilo dell'assassino tracciato da Paul Britton, poi le lettere e le registrazioni scambiate tra Colin e Lizzie. Tutto qui. Nient'altro. Non ci sono prove forensi, non è stata trovata l'arma del delitto, quindi non c'è altro che la giuria possa approfondire. Appena inizia il processo, il giudice esamina il materiale presentato dall'accusa relativa all'operazione condotta sotto copertura e, indovinate, lo valuta inammissibile. Ma giuratemi, non l'avrei mai immaginato. Ovviamente sono ironica. Il giudice reputa inaccettabile il modo in cui è stato ottenuto, ingiusto nei confronti di Colin. Il giudice stabilisce che il comportamento della polizia nell'accusare Colin rappresenta un tentativo di incriminare un sospettato con una condotta ingannevole e molto grossolana. Adesso la polizia non ha più nulla tra le mani e Colin viene formalmente assolto, riottenendo la libertà nel 1994. Grazie a Dio. Quest'uomo innocente, perché di questo si tratta, ha passato ingiustamente più di un anno in prigione. Ma ora, che è finalmente libero, i media e la popolazione credono ancora che sia lui l'assassino di Rachel. Quindi continuano a seguirlo, ovunque, a morire, i giornali si riempiono di bugie sul suo conto. Anche i cari di Rachel avevano la stessa convenzione su Colin, a causa degli investigatori. E ora, dopo tanto tempo, hanno il cuore spezzato per i risultati del processo. Credono che Rachel non otterrà mai giustizia dopo quello che l'è stato fatto. In questo momento, nel 1994, Andre e Alex e anche la cagnetta Molly vivono in Francia. Si sono trasferiti non molto tempo dopo l'omicidio di Rachel, perché anche loro venivano muazzati dalla stampa. Alcuni giornalisti erano riusciti a scattare e pubblicare la fotografia di Alex, l'unico testimone dell'omicidio di Rachel, mettendo così a rischio la sua incolumità. Quindi Andre, per tenere il figlio lontano dai pericoli, ha deciso di lasciare l'Inghilterra. Anche se la loro vita non sarebbe più stata la stessa, desiderava almeno che Alex potesse vivere la sua infanzia in tranquillità, senza essere perseguitato dalla stampa e dai fotografi. Ma, dopo un paio di anni, un giornalista riesce a scoprire dove vivono segretamente Andre e suo figlio in Francia. Quindi i due si trasferiscono di nuovo, questa volta in Spagna, dove rimarranno fino all'età adulta di Alex. Una volta solto Colin, la polizia annuncia che avrebbe tenuto aperti i fascicoli del caso di Rachel, ma in realtà non sta cercando un altro colpevole. Vuole ancora credere fermamente che Colin sia l'assassino. Inoltre ha speso circa 3 milioni di sterline nel tentativo di condannarlo. Denaro sprecato per incriminare un uomo innocente. Inoltre, quanto allora attribuita al decesso di Rachel, questa rientra in un arco temporale in cui Colin, come aveva spiegato alla polizia, era già uscito dal parco quella mattina, a causa del mal di testa. Dunque lui si trovava a casa, a riposare mentre lei veniva uccisa. L'indagine a questo punto si arena e il delitto assume le sfumature indefinite di un caso irrisolto. Per anni l'opinione pubblica ha continuato a credere che Colin fosse riuscito a farla franca. E io non voglio immaginare la vita grama che ha dovuto sopportare questo ragazzo da quando è stato accusato e anche poi quando è stato rilasciato. Non lo voglio immaginare. Non lo voglio immaginare. Davvero. Mi dispiace un sacco per lui. Arriviamo ora al 2002. Sono passati dieci anni dall'omicidio di Rachel e Scotland Yard istituisce una nuova squadra di investigatori per riesaminare il caso e tutto il materiale raccolto in questo lungo frangente di tempo. Chiedono anche ad Andre e a suo figlio Alex che oramai ha circa 13 anni di tornare in Inghilterra per fornire nuovi campioni di DNA da comparare con qualsiasi altra traccia genetica trovata sul corpo di Rachel. Se ricordate nel 1992 la squadra forense non disponeva di strumenti all'avanguardia ma nel 2002 la tecnologia relativa all'analisi del DNA è molto più avanzata. Quindi riesaminando i campioni prelevati a suo tempo dal cadavere si accerta che questi contengono del DNA. In particolare si evidenzano due DNA diversi quindi appartenenti a due persone distinte. Il primo profilo tracciato è quello della stessa Rachel. Il secondo appartiene a un maschio sconosciuto né ad Andre né ad Alex quindi deve trattarsi del DNA dell'assassino. Il campione di DNA viene confrontato con quello di Colin Stagg nella speranza di poter affermare oltre ogni dubbio che lui è l'assassino dopo dieci anni. Tuttavia i risultati sventiscono questa convinzione rivelando che il DNA di Colin è simile ma non corrisponde a quello del soggetto maschile sconosciuto. La tecnologia del 2002 in verità non è ancora sufficientemente avanzata per identificare qualcuno con la massima precisione. Quindi per ottenere risultati certi bisogna attendere che vengano raggiunti ulteriori progressi. Nel 2004 dopo due anni nuovi traguardi della tecnologia forense viene ritestato il campione di DNA sconosciuto ma non si ottiene una corrispondenza con quello di Colin. Dopo più di un decennio di accuse ostinate e sdegno ecco la prova che scagiona Colin una volta per tutte. Lui non è certamente il colpevole non ha ucciso lui Rachel. Comunque il campione di DNA viene inserito nel database ed emerge immediatamente una corrispondenza a distanza di 12 anni dall'omicidio di Rachel. Il DNA corrisponde a un uomo di 38 anni di nome Robert Knapper detenuto nell'ospedale psichiatrico di Broadmoor nel Berkshire. Robert è stato condannato alla detenzione in questo istituto ad alta sicurezza perché è uno che fa violenza intima in modo seriale ed è un assassino. Ora è anche il principale sospettato dell'omicidio di Rachel. Ma qual è stata la vita di Robert Knapper? Robert nasce il 25 febbraio 1966 e cresce con la sua famiglia a Plumstead un quartiere di Greenwich nel sud est di Londra. I suoi genitori si chiamano Brian e Pauline e Robert è il più grande dei loro quattro figli. Il bambino cresce in un ambiente molto violento infatti suo padre Brian è davvero aggressivo nei confronti della moglie Pauline. Robert assiste a innumerevoli maltrattamenti nell'ambiente domestico e quando ha circa sette anni suo padre se ne va via di casa. Il matrimonio volge al termine e tutti i bambini vengono dati in affidamento temporaneo. Mentre sono in affidamento iniziano a ricevere assistenza dagli psichiatri infantili. A Robert viene diagnosticata la sindrome di Asperger e più avanti durante la pubertà viene stabilito che soffre di schizofrenia paranoide. La schizofrenia paranoide è una malattia cronica nella quale si manifesta una persistente disfunzione del pensiero. conducendo a deliri e anche della percezione causando allucinazioni. Questi sintomi comportano un forte senso di disadattamento nel soggetto che ne soffre e ne limitano le normali attività occupazionali e sociali. Poco dopo Robert e i suoi fratelli tornano a stare dalla madre Pauline. Robert inizia a raccontare delle cose insensate e per nulla veritiere come di aver incontrato la regina, di aver vinto un premio Nobel, di essere stato catturato da qualcuno che lo ha torturato e gli ha tagliato le dita che poi però sono ricresciute. Robert trova la scuola particolarmente difficile, non riesce mai ad adattarsi, non ha amici, è un ragazzino solitario che preferisce stare per conto proprio la maggior parte del tempo. Per questo motivo i compagni di classe pensano che sia strambo e fanno i prepotenti con lui. Lo prendono in giro e gli lanciano gli oggetti contro. Quando Robert ha tra i 12 e i 13 anni gli accade qualcosa di orribile. Viene aggredito intimamente da un amico di famiglia durante un viaggio in campeggio. Il colpevole in seguito viene arrestato e incarcerato per la... ma la famiglia e gli amici di Robert sanno che dopo questo tragico evento il ragazzino non è più lo stesso. Robert in realtà era già un ragazzo solitario ma dopo l'aggressione diventa ancora più introverso e molto timido e ossessionato dalla polizia. Passa ore e ore a lavarsi e a strofinarsi la spugna sulla pelle con forza. Il suo comportamento inizia a diventare violento nei confronti dei fratelli più piccoli senza motivo e in varie occasioni viene sorpreso a spiare sua sorella minore quando si spoglia e si fa la doccia. All'età di 16 anni Robert lascia la scuola e inizia un corso di ristorazione. Cambierà lavoro molto spesso e quando compie 18 anni sua madre Pauline spazientita lo caccia di casa. Robert trova lavoro in una fabbrica di plastica e prende un monolocale tutto per sé a Plumstead ma nel 1986 viene arrestato perché va in giro con una pistola d'aria compressa a carica. Infine viene semplicemente multato. Paio di anni dopo quando Robert ha circa 20 anni inizia a sbirciare dentro le finestre delle case della zona per spiare le donne. Nel 1989 a 23 anni Robert compie una serie di aggressioni intime a Londra. La prima l'ha messa in atto proprio ad agosto. A Plumstead imboccando la porta sul retro è entrato in casa di una donna con due figli. Si è diretto al piano di sopra mentre i bambini erano impegnati a giocare e ha minacciato la donna con un coltello. Le ha detto che se non avesse eseguito i suoi ordini avrebbe ucciso i suoi figli. Dopo averle fatto violenza Robert esce di casa tranquillo dicendole queste parole. Dovresti tenere la porta chiusa. La donna chiama sconvolta la polizia che preleverà un campione di dna dell'aggressore. Non molto tempo dopo Robert confessa a sua madre Pauline ciò che ha fatto e lei denuncia il figlio. La polizia quindi che fa? Le dice che avrebbe controllato se qualcuno avesse denunciato un'aggressione corrispondente a quella da lei descritta. Tuttavia la polizia non lo fa. Non si prende la briga di indagare ulteriormente. Si limita a visionare soltanto i rapporti degli ultimi giorni. Non trova nessuna denuncia e lascia perdere. Negli anni successivi Robert aggredisce diverse donne e la maggior parte dei suoi attacchi avviene sul Green Chain Walk, ossia un insieme di percorsi che collegano spazi verdi e il fiume Tamigi nel sud est di Londra. Robert gironzola nei parchi e osserva le donne selezionando le sue vittime. Col passare del tempo i suoi assalti diventano sempre più violenti come segnalano le vittime. Il molestatore le minaccia con un coltello ordinando loro di fare ciò che vuole. In un'occasione ad esempio Robert arriva a pugnalare al seno una donna che ha aggredito e comunque su tutte esercita violenza intima. Dunque dalle vittime che denunciano l'accaduto la polizia preleva il liquido semilane del maniaco e riesce a individuare il suo DNA. La notizia è che un aggressore intimo se aggira in libertà diventa di dominio pubblico e terrorizza a Londra. Robert viene etichettato come l'aggressore del green chain walk o come lo squartatore di Plumstead. Con il supporto delle vittime la polizia delinea un identikit che viene diffuso nella speranza che qualcuno identifichi il mortatore e si faccia avanti. Due vicini di Robert lo riconoscono e contattano la polizia sostenendo che è lui il responsabile. La polizia rintraccia Robert e lo invita a recarsi alla stazione di polizia per fornire il suo DNA così da poterlo escludere dall'indagine. In caso risulti innocente ovviamente. Quando Robert non si presenta gli investigatori lo sollecitano di nuovo più volte ma sempre in vano e incredibilmente alla fine udite udite la polizia lascia perdere. Non prova a seguirlo per valutare i suoi spostamenti non lo arresta ma smette di convocarlo. Gesù Giuseppe Maria ci vuole davvero secondo me un bell'impegno per fare così male il proprio lavoro in modo così continuativo secondo me. Questa è la seconda volta in cui Robert la fa franca quando avrebbe potuto essere facilmente catturato e punito per i suoi crimini. Ma poi mi domando se un uomo viene invitato a presentarsi in centrale più volte e non lo fa mai questo non è un campanello d'allarme? Non sembra un comportamento sospetto? Per me sì ma a quanto pare nella testa degli agenti non è risuonato questo campanello d'allarme. Che dire? In verità la polizia esclude che Robert sia l'aggressore perché lui è una decina di centimetri più alto rispetto all'uomo descritto dalle vittime che raggiungerebbe appena un metro e sessanta. Nessuno prende in considerazione il fatto che le vittime potrebbero essersi sbagliate? In quei terribili momenti non erano delle semplici testimoni ma stavano subendo l'aggressione santo cielo. Robert quindi quasi indisturbato continua ad assalire le donne finché non arriva a commettere il suo primo omicidio. Noi sappiamo che ha ucciso la 23enne Rachel Nickel a Wimbledon Common nel 1992. La polizia non riesce a stabilire una connessione tra gli attacchi avvenuti lungo il Green Chain Walk e l'omicidio di Rachel anche se si delineano alcune somiglianze. Le vittime di Robert sono state aggredite per lo più in luoghi pubblici, nei parchi per l'esattezza e sono state tutte minacciate con un coltello. Emerge addirittura che gli investigatori impegnati sul caso dell'aggressore del Green Chain Walk interagivano con i detective alle prese con l'operazione Esdel cioè quella condotta sotto copertura per incastrare Colin. I primi hanno anche ipotizzato che i due casi fossero collegati ma i secondi non concordavano erano troppo occupati a perseguitare Colin. Si vede che l'obiettivo di condannare Colin ha offuscato effettivamente il loro giudizio tanto che come sapete si sono quasi rifiutati di indagare su altri sospettati. Ancora una volta si sono lasciati sfuggire l'opportunità di catturare il vero assassino. A distanza di circa tre mesi dall'omicidio di Rachel Robert viene arrestato per tutt'altra ragione cioè per aver tentato di stampare fotocopiare la carta intestata della polizia. Viene presto rilasciato ma più o meno nello stesso periodo una donna chiama la polizia per denunciare che un uomo inquietante si aggirà sul retro di diverse case sempre nella stessa zona e osserva le persone attraverso le finestre. Quest'uomo viene identificato come Robert. L'uomo viene dunque arrestato di nuovo e il monolocale in cui vive a Plumstead viene perquisito. Durante la perquisizione gli agenti trovano tre armi ovvero una pistola e due coltelli. Uno di questi coltelli sembra quello usato dall'aggressione del Green Chain Walk per pugnalare al seno una sua vittima. Eppure ancora non viene stabilito alcun collegamento e mi chiedo come sia possibile. Gli agenti individuano anche una cassetta degli attrezzi di metallo rosso accanto al letto di Robert. Ricordatevi di questo oggetto perché tornerà nel nostro racconto. Intanto vi dico che all'interno della cassetta degli attrezzi gli investigatori trovano altri due coltelli e una mappa dell'area intorno al percorso del Green Chain Walk. Robert ha cerchiato numerose zone su questa mappa. Al momento la polizia non se ne rende conto ma i cerchi corrispondono ai posti in cui lui aveva aggredito le sue vittime. Questa mappa per Robert rappresenta una specie di trofeo. Ogni volta che la riguarda ricorda tutte le sue aggressioni e in un certo senso riesce a rivivere ciò che ha fatto. Siccome come detto la polizia non coglie immediatamente questi collegamenti Robert viene condannato a una pena detentiva di quattro settimane per il possesso di un'arma da fuoco. Al termine della detenzione viene rilasciato nonostante la psichiatra che l'ha visitato abbia detto alle autorità che Robert rappresenta un'indiscussa minaccia sia per se stesso che per gli altri. A questo punto della ricostruzione siamo tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993. Robert è un uomo libero e è riuscito a farla franca sia per le innumerevoli aggressioni che per l'omicidio di Rachel. Dunque gli è possibile colpire ancora e sceglie le sue prossime vittime Samantha e sua figlia Jasmine di quattro anni. Le due vivono sempre a Plumstead nella stessa zona di Robert con il fidanzato di Samantha Conrad. Si presume che Robert prima di colpire abbia osservato la famiglia piuttosto a lungo. Infatti Samantha poco prima dell'attacco ha detto al suo compagno Conrad di aver visto un uomo che la osservava fuori dalla finestra della camera da letto. Probabilmente era Robert. Un giorno di novembre del 1993 Conrad lascia l'appartamento per passare la notte da suo padre. Robert ne approfitta, entra in casa e aggredisce intimamente Samantha. Nella sua foga assassina la pugnala a morte procurando le ferite da taglio su tutto il collo e il petto spargendo ovunque il suo sangue. Poi Robert si dirige nella stanza di Jasmine e fa violenza anche su di lei. Infine la soffoca. I corpi senza vita di Samantha e Jasmine vengono scoperti la mattina dopo da Conrad che voleva passare a salutarle prima di recarsi al lavoro. Una visione inaspettata e straziante lo travolge e chiama subito la polizia. La polizia esamina la scena del crimine. La scientifica compie rilievi delle impronte digitali nella speranza di individuare l'assassino. Tuttavia dopo l'analisi il laboratorio si stabilisce che tutte le impronte digitali rilevate appartengono alle persone che vivevano in quell'appartamento e non anche a un estraneo. I detective quindi presumono che l'assassino avesse indossato dei guanti. Di fronte alla totale mancanza dei propri forensi anche in questo caso gli investigatori si rivolgono al profiler Paul Britton che sta lavorando sia con gli investigatori impegnati sul caso di Rachel sia con quelli alle prese con l'aggressione del green chain walk. Dunque questo profiler sta lavorando con tre squadre di investigatori diverse a Londra ma nell'elaborare i profili criminali degli aggressori non ha mai considerato che potesse trattarsi di un'unica persona nonostante i tratti di comunanza. Dopo gli omicidi di Samantha e Jasmine finalmente gli investigatori addetti all'indagine comunicano a quelli occupati con il caso di Rachel che potrebbe esserci un collegamento ma come immaginerete loro dimostrano ancora una volta di avere i paraocchi perché cercano soltanto di incastrare Colin ed ecco che sfuma sotto i loro occhi un'altra opportunità di catturare il vero assassino. In ogni caso gli investigatori coinvolti nel duplice omicidio di Samantha e Jasmine si accorgono che durante l'analisi delle impronte digitali rilevate c'è stato un errore. Sulla scena del crimine in verità sono state trovate anche le impronte digitali dell'intruso non soltanto degli abitanti dell'appartamento ma c'era stata confusione perché queste sono molto simili a quelle di Samantha. Gli investigatori confrontando le impronte digitali dell'assassino di Samantha e Jasmine con quelle che hanno nei loro archivi scoprono che appartengono a Robert. Sulla scena del crimine è presente anche un'impronta insanguinata che coincide con delle scarpe di Robert. Inoltre diversi testimoni si fanno avanti per segnalare di aver visto Robert nei dintorni della casa di Samantha il giorno degli omicidi. Siccome diverse prove lo collegano al crimine nel maggio del 1994 Robert viene prelevato dal suo monolocale e arrestato. Viene accusato dell'omicidio di Samantha e di Jasmine e nel frattempo i detective gli attribuiscono l'identità dello squartatore di Plumstead. Infatti anche in questo caso emergono parecchi indizi a suo carico come la mappa dell'area intorno al percorso del Green Chain Walk ritrovata nella casetta degli attrezzi durante la prima perquisizione. Le zone evidenziate da Robert corrispondono a quelle in cui sono avvenute nei vari anni le aggressioni contro tante donne. Anche se si presume che Robert abbia commesso dalle 80 alle 100 aggressioni quando viene arrestato è accusato soltanto di due aggressioni e due tentate aggressioni. Nel 1995 si dichiara colpevole sia delle aggressioni che dell'omicidio colposo di Samantha e Jasmine sulla base della ridotta responsabilità. Nel processo la difesa afferma che non può essere ritenuto responsabile né dell'omicidio né delle aggressioni a causa dei suoi problemi di salute mentale. Dunque invece di essere recluso in una comune prigione Robert viene ricoverato all'ospedale psichiatrico ad alta sicurezza Broadmoor a tempo indefinito. Un paio di mesi dopo il suo arrivo nell'istituto Robert viene interrogato riguardo al diritto di Rachel. Il processo a Collins si è già concluso e lui per fortuna è stato ritenuto innocente. In ogni caso Robert mente, mente spodoratamente, dice che lui non ha nulla a che fare con Rachel che non è mai stato a Wimbledon Common mentre risulta che si trovava nel parco proprio il giorno in cui Rachel è stata uccisa. Sorpresa sorpresa. Doveva infatti sottoporsi a un trattamento psichiatrico proprio lì nelle vicinanze. A questo punto facciamo un salto in avanti e torniamo dove eravamo rimasti nel 2004 quando il campione di DNA trovato sul corpo di Rachel viene inserito nel database ed emerge la corrispondenza con Robert. Ma questa non è l'unica prova che collega Robert all'omicidio di Rachel. Eh già. Nel 2004 infatti viene reesaminata anche la mappa trovata nella cassetta degli attrezzi di colore rosso che aveva già supportato le indagini. Si nota che Robert aveva cerchiato anche una zona nei pressi del parco di Wimbledon Common dove l'omicidio di Rachel ha avuto luogo. Inoltre emerge una corrispondenza anche tra l'impronta di scarpa che era stata trovata sul luogo del delitto di Rachel e un paio di scarpe di Robert. Infine quanto alle inspiegabili tracce di vernice rossa individuate sui cappelli del piccolo Alex soltanto adesso i detective si rendono conto che provenivano proprio dalla cassetta degli attrezzi. La vernice rossa utilizzata corrisponde. Queste prove confermano finalmente alla polizia di aver trovato la persona giusta. Robert è l'assassino di Rachel. L'uomo viene dunque accusato del suo omicidio e ancora una volta si dichiara colpevole di omicidio colposo per ridotta responsabilità. La sua missione arriva nel dicembre del 2008 oltre 16 anni dopo l'omicidio di Rachel. Nell'epilogo di questa intricata storia Robert Knapper viene rimandato all'ospedale psichiatrico di Broadmoor dove rimarrà per il resto della sua vita. Non potrà più approfittare degli abbagli della polizia che in passato gli hanno consentito di strappare altre vite. Allora io ho finito di parlare di questo caso e onestamente quando facevo le ricerche per questo caso mi sono arrabbiata più o meno una decina di volte. Non è possibile lasciarsi sfuggire un colpevole per così tante volte in così tante circostanze diverse. Non è possibile. Non è possibile perseguitare un ragazzo cercando di incolparlo di un qualcosa che non ha fatto perché non ci sono le prove. Colin era innocente ma non c'erano prove che lui fosse colpevole. Quindi era innocente già all'inizio a mio avviso. L'operazione Esdel lasciamo perdere. Davvero stendiamo un velo pietoso su questa parte di caso perché mio dio. E boh onestamente sono molto dispiaciuta quando vengo a sapere queste cose, quando vengo a conoscenza di questi casi. Davvero bastava più attenzione. Bastava approfondire qualche indagine. Bastava ascoltare la madre di Robert quando lei stessa ha chiamato la polizia accusando suo figlio. Bastava cercare Robert in modo più consapevole. L'hanno chiamato per chiedergli di andare alla stazione di polizia per farsi estrarre il DNA. Lui non si è presentato. Loro l'hanno richiamato un paio di volte e poi vabbè pazienza. Non si fa così. Non si fa così. Rimango molto molto amareggiata. Sono molto contenta ovviamente che Rachel abbia ottenuto giustizia anche se dopo così tanti anni e non posso che esprimere invece il mio disappunto per quanto accaduto al piccolo Alex. Credo sia assurdo che delle persone perdano la compagna e la propria madre e si ritrovino addirittura perseguitati dalla stampa tanto da dover cambiare stato letteralmente spostarsi e stare nascosti. La trovo una cosa assurda davvero davvero assurda e sono molto dispiaciuta per quello che hanno dovuto subire Alex e Andrè in questo caso anche perché è andato avanti per molti anni capito quindi insomma questa pressione questa assurda mi verrebbe da dire persecuzione perché effettivamente la stampa fa questo ti rende la vita impossibile ti perseguita. È durata davvero fin troppo e davvero sono molto amareggiata per questo molto molto amareggiata perché insomma si stava parlando di un mammino di tre anni e un mammino di tre anni non va perseguitato non è possibile che si cerchino di scattare sue foto da vendere ai media un bambino di tre anni tre anni uno due tre minimo di rispetto ma meno di tre anni che per di più ha visto la sua mamma venire uccisa santo dio minimo di rispetto minimo di tatto di delicatezza queste sono le mie opinioni finali e fatemi sapere quali sono le vostre ovviamente sono curiosa di leggere tutti i vostri commenti e tutte le vostre opinioni quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nella sezione commenti e nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video vi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti